La mattina al mercato di Rebbio sono le relazioni che abbiamo costruito in dieci anni con gli altri contadini e in alcuni casi anche le amicizie che sono nate. Sono un sacco di fatiche e fallimenti, ma forse la runa è stato solo un piccolo tentativo di trasformare il sogno, un sogno, in una piccola realtà condivita. Grazie. Grazie.